Benvenuti al meteo, temporanea stabilità sul nostro territorio, bel tempo dunque ma sempre con un clima piuttosto rigido, il dettaglio di martedì 12 gennaio. Sul Veneto precipitazioni assenti, avremo un ampio soleggiamento, il cielo si presenterà poco nuvoloso con ampi spazi di sereno e alcune fasi di nuvolosità. Nelle ore più fredde non si esclude anche qualche occasionale banco di nebbia in pianura, qualche fiocco di neve sulle dolomiti settentrionali alla sera. Clima molto freddo come detto con temperature minime sotto lo zero ovunque, valori massimi compresi invece tra i 2 e i 4 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole su tutti i settori, solo con qualche velatura e locali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature minime intorno a meno un grado, massime sui 3-5 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, poche novità, asciutto e soleggiato anche qui su tutti i settori, con cielo sereno, locali nevicate a bassa quota sui settori di confine. Temperature minime sui meno 3-2 gradi, massime invece sui 3 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.